Dopo i segnali incoraggianti emersi dal terreno dello stadium, il Nuova Florida cerca un'altra prestazione di livello per tornare al successo e regalare la prima gioia ad Alessandro Boccolini, con l'obiettivo di riavvicinarsi ai quartieri alti di fronte ad un Porto d'Ascoli che sta consolidando la sua posizione nella parte sinistra della classifica. Ed infatti c'è subito questo destro dalla distanza di Evangelisti, con riflesso prodigioso di Giordani che poi viene graziato da Spagna, che a porta completamente sguarnita non riesce a indirizzare verso la porta, spedendo clamorosamente sul palo. Il 28 del Porto d'Ascoli si rifà però di lì a poco perché arriva un pallone sporco in aria che l'attaccante marchigiano riesce a tradurre in porta, girando bene con il destro. Vantaggio Porto d'Ascoli poco dopo il decimo minuto del primo tempo. Poi su questo traversone episodio dubbio in aria ospite dove Muzzi e un difensore orange si allacciano, ma per l'arbitro è tutto regolare. Nel momento migliore dei padroni di casa arriva però il raddoppio, azione fotocopia a quella del vantaggio, con il pallone vagante raccolto da Sensi, il 6 gira distinto verso la porta e pesca l'angolo lontano. 2-0 per il Porto d'Ascoli. Piove sul bagnato perché poco dopo su questo rilancio la difesa del Nuova Florida si fa colpevolmente sorprendere, sbilanciata e De Martino è costretto a spendere il secondo giallo. Il 33 era già ammonito, si becca il rosso e va negli spogliatoi con largo anticipo. E sulla punizione susseguente gli ospiti potrebbero pure arrotondare con il destro a giro di Napolano che però fa la barba al palo e termina fuori di un soffio. Nella ripresa inizialmente il light motive della gara non cambia perché a partire forte è di nuovo il Porto d'Ascoli. Spagna combina con Evangelisti, il 16 entra in aria e lascia partire il sinistro, Giordani risponde presente e tiene in piedi il Nuova Florida. Porto d'Ascoli che è anche forte della superiorità numerica da quel momento vada prevalentemente ad amministrare il risultato e allora destro velenoso di Pacillo dalla distanza con testa che blocca in due tempi. Poi ci prova anche Sicurella che tenta il destro a giro ma è ancora bravo testa che devia in corner. L'ultima chance per riaprire la gara è da parte di Muzzi che entra in aria dalla destra e conclude ma è bravo ancora una volta l'estremo difensore del Porto d'Ascoli a pizzicare in angolo con la punta del guantone. E dunque finisce così, continua quindi il digiuno del Nuova Florida che rimane a quota 17 mentre il Porto d'Ascoli centra la terza vittoria consecutiva e vola sempre di più in classifica.